Gola Secca! 16 aprile 2022. No, no la Gola Secca, questa località si chiama Gola Secca. Prosegue il giro in bici, siamo nella strada del ritorno e da Gola Secca arriveremo a Somma Lombardo. Una volta c'erano dei bellissimi alberi enormi, purtroppo sono stati tagliati. Qui dovevano fare una cosa sola, rifare l'asfalto. Sono sempre sulla mia Bianchi Ultra XR4. E non tappare i buchi, rifare proprio, qua va rifatto. Questo è l'unico pezzettino di ventino e tre, l'unico pezzo sale. Grazie a tutti. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. In modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricate. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. e già che ci siete, contividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Grazie a tutti. 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 Come vediamo questa intencata? al contrario si alzano di un venticello in piavia adesso la fronte dovrebbe essere quella lo stesso come io della bici ma non l'inverso non 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 Qualche folata di contraria. 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 Grazie a tutti 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 Ciao 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 Iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati Guarda altri video, ce ne sono di vari generi I video di questo giro continuano Ciao, alla prossima